Incidente mortale nel pomeriggio di domenica 24 settembre intorno alle 14.30 sulla provinciale 565 Pedemontana nel territorio di Parella. Una Kia Sportage con a bordo un uomo e una donna si è scontrata con un Kawasaki Z1000 condotta a un 31enne di cascinette di Ivrea. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Castellamonte e di Ivrea, la croce blu di Ivrea, i carabinieri della stazione di Castellamonte e del nucleo radiomobile della compagnia di Ivrea. Inutili purtroppo i tentativi di salvare il motociclista, illesi invece gli occupanti della vettura. La strada è stata parzialmente chiusa ed il traffico deviato in prossimità dell'uscita per Parella. Chissà per l'Ispendio, l'Ispendio. Inoltre a un'usica strada è stato passata con il nostro regionale, del territorio e della Grazie a tutti.